E' nato un nuovo modo di ascoltare la musica. BlackBerry presenta BBM Music. Un nuovo servizio che ti permette di condividere con gli amici la tua musica preferita, scegliendola da un catalogo di oltre 11 milioni di video. Con BBM Music ti basterà aggiungere nuovi amici per far crescere la tua raccolta musicale. Tutte le canzoni presenti nel loro profilo possono essere due. E poiché gli amici di amici si possono connettere facilmente, avrai sempre un nuovo modo eccezionale di scoprire nuove canzoni da condividere. E la tua musica ti accompagna anche quando non c'è segnale. BBM Music è disponibile su tutti gli ultimi smartphone BlackBerry. Scaricolo e provalo gratuitamente. 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 Grazie a tutti.